Ciao, faccio questo breve video per dirti che il 18 di aprile si terrà a Milano una novità assoluta un corso della durata di un giorno dove vengono mescolate da un lato le caratteristiche e le peculiarità del suspension training mentre dall'altra parte le modalità dell'allenamento one to one, quindi del personal training non parleremo dunque solo di didattica degli esercizi ma verrà visto l'attrezzo in un'ottica totalmente diversa studieremo insieme come programmare una singola seduta per obiettivi specifici e come programmare più settimane o mesi di allenamento in base agli obiettivi individuali quindi svilupperemo il miglior programma che possa portare a un determinato risultato o un determinato obiettivo andremo poi a studiare le caratteristiche antropometiche e morfologiche dell'individuo e in base a queste caratteristiche strutturali non solo la singola seduta ma anche l'intera programmazione dovrà subire delle modifiche e dovrà essere sviluppata su misura e cucita addosso sulla singola persona altro argomento è quello di valutare e studiare insieme come allenare le capacità condizionali molti trainer ad oggi pensano che ci possono essere dei limiti nell'utilizzare questo attrezzo ma in realtà non è così nel senso che attraverso la suspension training è possibile allenare la forza è possibile allenare la resistenza muscolare la potenza ed è possibile anche incrementare l'ipertrofia muscolare si studierà quindi la fisiologia in relazione alla teoria dell'allenamento ed infine ma non meno importante studieremo come utilizzare questo attrezzo per incrementare la flessibilità grazie al principio numero uno dell'allungamento muscolare e cioè il principio dell'inibizione dei fusi neuromuscolari non mi resta dunque che salutarti e ci vediamo il 18 di aprile